Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, allora oggi e fede ci siamo tramutate in due unicorni, quindi praticamente non so se vedete le nostre maglie che tra l'altro sono del nostro brand Civico 67, quando abbiamo fatto queste magliette ancora la moda degli unicorni, questo mister X non c'era, siamo in cucina come potete vedere dal nostro sfondo, ci stiamo scimentando in una nuova ricetta, speriamo di essere le prime d'Italia a farla perché non è giusto, noi non abbiamo uno Starbucks qui in Italia, quindi lo facciamo a casa delle sorelle Monteleone, il nuovo unicorn frappuccino, E poi alla fine la cosa fondamentale, che è tutta una cosa visiva alla fine, cioè è tutta estetica alla fine, è tutto colorante, quindi gli 10 ingredienti che abbiamo sono Panna spray, gelato, latte, zuccherini colorati da mettere come topping e coloranti alimentari, noi abbiamo preso il rosa e l'azzurro naturalmente, ma iniziamo subito a fare questa ricetta Andremo a mixare dentro il nostro frullatore, questo cardor alla panna con un po' di latte, quindi noi andiamo ad aggiungere il latte ad occhio in base poi alla consistenza che vogliamo ottenere E poi metteremo tutto in questa tazzolina, che carina Allora vede all'opera Ma voi raccontateci cosa ne pensate di questo unicorn frappuccino Alla fine chi vive fuori, chi è italiano ma vive fuori sicuramente l'avrà già assaggiato Fateci sapere che gusto ha l'originale Noi andremo a farne uno Ah è un po' duro questo gelato No no, meglio, meglio, perché ora considera che qua dentro poi si fa Io direi basta Eh no, perché considera che deve venire quel boccione, almeno lo facciamo bello colorato, variegato Va bene, va bene Eh però scusami Fede, noi dovevamo fare una parte di vaniglia e metterli in rosa Infatti tu devi attendere Lo facciamo qui dopo? Metteremo un goccettino di latte e il rosa, poi altre due palle e il celeste E non gliene sai No vabbè ce ne sono due, poi considera che si può anche conservare Con sti space bun Ok dai, procediamo Un colorante, un po' di latte e una forbice E tu devo voglia più rosa che celeste Voglio tanti colori unicorno E colorante rosa e poi c'è una forbice Quindi praticamente abbiamo messo Tre cucchiai di gelato Esatto E ora metteremo due cucchiai di latte e vediamo quanto si addensa E il colorante La prima parte di colorante Dopodichè questo cuore lo sistemiamo in una boccia E poi ne facciamo anche due delle palle di latte Due delle cucchiai di latte E mettiamo l'altro colorante In modo che poi le possiamo iniziare Lei è molto brava a fare le torte Se volete qualche ricetta Ragazzi se volete qualche video ricetta Voi ve lo vedete Inizieremo la rubrichetta Lei è molto brava Sì, grazie Andiamo di rosa Io non vedo una volta E' biova, non è rosa E certo perché quel bianco diventa rosa Chi devi dire all'amica Frizzi Posso mixare? Va a destra E' tutta cosa così non si sbaglia ok pure qua dentro lo puoi mettere però no prendi il bicchiere di pedro allora ragazze il nostro prima la nostra prima parte diciamo di frappuccino rosa è stata fatta adesso passiamo invece alla parte azzurra quindi questo qui lo mettiamo in freezer fede adesso andiamo ad aprire il nostro colorante celeste che poi realtà è blu quindi ci vado piano è un po come quello che la viola è più diventato un bel rosa sì questo sì e adesso si va di shaker oh mio dio oh mio dio oh mio dio è un azzurro un po' baby vai bicchiere che caruccio questo colore siamo quasi pronti lasciamo anche questo per due minuti dentro dove è la che non c'è di questo è la mossa ma cosa sbattere è qua perché mi piace più questo che si vede no perché tu questo qui lo levi gli metti tutta la panna montata capito tesoro allora io metterò un po' di panna sotto che mangi allora andiamo a fare la nostra tazzuccia non vedo l'ora io volevo arrivare a questo momento ho capito gioco io mi secco fare il procedimento voglio arrivare al momento questo è matta da legare comunque tutti i migliori sono matti baby allora quindi la andiamo a fare ti prego prendi subito le nostre tazzucce e poi non so se notate ma nella nostra febbra in realtà c'è l'unicorno continuato a spiaccicare quindi è un unicorno fra Cucci in realtà noi siamo molto avanti noi siamo molto più avanti nello starbucks vieni qua starbucks che fai Cucci? qua mettiti qua così vedano molto bene quello che stai per fare vai vai vedi che arriva vedi che arriva sta arrivando ah tu dici che lo macchiamo un po' di qua un po' di qua così non è che tenga molto questo macchio eh vai dammi dammi l'azzurro butto andiamo di azzurro raga butto così o col cucchiaio? così my god ma si matta basta basta quello conservalo qua lo mettiamo poi sulla panna un po' puoi andare a fare qualche decorazioncina tipo questo? si quello celebra ma non abbiamo libertà guardate ragazze qualche decorazioncina ci si sale ah comunque ce l'avevamo guarda sale azzurro praticamente ecco lì qua giallo ma vedi nella mia cucina non mantengono ok basta scusa allora ragazze adesso si va in panna ah è già pronta? certo vai butta tutto aspetta 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 perché non mi si apre mai i zuccherini? boh boh mamma questo ce lo mangiamo col pranzo Peter ha voglia che il petto di polvo io ancora devo mangiare il petto di polvo ma tu guarda che bello mio Dio non ci credo ragazze e come nei migliori dolci c'è sempre la ciliegina sulla tortina non si vedrà niente perché si è proprio durante la video ragazze il nostro unico frappuccino è terminato dietetico soprattutto light molto light ci sono circa del 150 e mezzo di panna proviamo il gusto cannucce bevi il gusto io ho la mia cannuccia personale dov'è? mmm non c'è è vero questo mmm però io voglio fare una foto ce lo siamo dimenticati